mamma mia ragazzi che sudata mamma mia ragazzi che sudata che sudata lo sapevamo lo sapevamo che sarebbe stata una partita non facile perché comunque l'udinese è una squadra di livello però ragazzi il finale mamma mia il finale tosto finale tosto perché il napoli nell'ultimo quarto d'ora 20 minuti diciamo l'ultimo quarto d'ora è andato un po troppo sul morbido soprattutto la difesa si è troppo diciamo seduta sugli allori non bisogna mai distrarsi questo è proprio un esempio questo è un chiaro esempio che non bisogna mai distrarsi perché si corrono rischi ragazzi si corrono rischi però fortunatamente avevamo fatto tre gol alla fine vince la squadra che segna di più e quindi i tre cannoli sono stati offerti oggi all'udinese e quindi ben venga ben venga siamo contenti e meno male detto questo ragazzi come sempre ovviamente tanti altri contenuti usciranno su questa partita per ora ci accontentiamo di questi cannoli poi la serie a ragazzi purtroppo oggi va con oggi va in pausa si tornerà direttamente a gennaio noi godiamoci cannoli per oggi ovviamente questi tre cannoli fatti eh diciamo offerti alla all'udinese da osimen da zielischi e soprattutto il cannolo macedone da elmas che ha fatto un bel gol devo dire un bel gol di elmas detto questo spalletti comunque ha avuto ragione sulle su sugli uomini che ha messo in campo avrei osato qualche sostituzione in più sul finale forse elmas sul finale l'avrei tolto al posto di raspadori osimen l'avrei messo però vabbè ragazzi l'importante è che ci sono tante cose da rivedere soprattutto il discorso della difesa che si è troppo ripeto si è troppo messa si è troppo seduta sugli allori sul finale troppo riposata sul finale non va bene sempre attenti sempre concentrati bisogna stare però tutto sommato ragazzi quando porti tre punti comunque a casa va bene così va bene lo stesso va bene così quindi detto questo forza Napoli sempre ennesima partita undicesima vittoria di fila portata a casa e ovviamente ragazzi ci vediamo con un prossimo contenuto forte